Se io gli chiedo di fare la stessa cosa con questa bottiglietta intera, lui può provare tutta la vita, ma non ci riuscirà mai a fare questa cosa. Io lo faccio provare un po'. Con una bottiglia quasi completamente ruota ci riesci, ma con quella piena non ci riesci. Il baricentro. Questa ha il baricentro molto basso, questa invece il baricentro è alto, quindi nel momento in cui tu fai ruotare questa bottiglietta, l'acqua per forza centrifuga, siccome sta ruotando, resta sempre schiacciata nella parte bassa, quindi quando ruota l'acqua rimane sempre bassa. Quando il baricentro è basso tu puoi avere questa stabilità.